Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Fessore. In quel tempo il popolo stava a vedere, i capi invece schermivano Gesù dicendo ha salvato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano se tu sei il re dei Giudei salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo campo, questi è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava. Neanche tu hai timore di Dio benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me, nel paradiso. Parola del Signore. La gloria di Dio Cristo. Siamo notati Gesù e Maria? Sempre siamo notati. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando con gioia la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Redenuniverso, una festa molto importante che chiude l'anno liturgico e in cui appunto la Chiesa intende farci vogliere lo sguardo verso questo mistero, cioè della regalità universale di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè Gesù non è semplicemente come i re umani un re piccolo, cioè che ha uno Stato, una nazione, neanche come gli imperatori romani che si credevano nei padroni della terra, hanno avuto dei grandi territori, dei grandi imperi, ma sono tutti finiti sotto un metro di terra e l'impero romano adesso è diventato una materia di libri di storia, non c'è più, non esiste più. Il nostro Signore Gesù Cristo invece ha un regno che si estende a tutto l'universo, non è soltanto a tutti gli terri da terra. Sapete quanto è grande l'universo? Adesso qui potrei, imitando un pochettino il grande scienziato di Comedi, fare un lezio sulle proporzioni dell'universo, ma guardate, per farvi capire quanto è grande l'universo, vi dico solo una cosa, perché viene da un documentario di scala, se noi costruissimo, state attenti, un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce, sapete a quanto viaggia la luce? La luce viaggia a 300.000 km al secondo, sono tanti, eh? Se noi fossimo capaci di costruire un'astronave del genere, è partissimo, sapete quanto tempo ci metteremmo a raggiungere il confine della Via Lattea, cioè della galassia dove noi ci troviamo? 32 milioni di anni, su questa è solo la Via Lattea, come questo è un documentario, come questo è un televisione, hanno fatto gli studi di scienziati, sapete quante galassie ci sono in tutto l'universo? Ecco, quindi il nostro Signore Gesù Cristo, altro che il re, non lo so, dell'Italia, della Francia, o della Germania, o anche l'imperatore romano, ha un regno, grosso quanto un universo, vuol dire che tutto ciò che nell'universo è, ed è grosso l'universo, è soggetto al suo potere istantaneo e immediato, e tutto gli obbedisce, volente o non lo so, questo ci dice la resta di oggi, solo che ci sono dei problemi, o no, qualcosa va scritto anche sul volentino, ci sono due problemi, primo, come mai se il nostro Signore Gesù Cristo è il re dell'universo, il Vangelo che abbiamo ascoltato, ci mostra Gesù Cristo in croci, guardiamolo bene, guardiamolo sempre molto bene, questo bel crucifisso che ci abbiamo alle nostre spalle, vi sembra uno che domina su tutto l'universo quello lì, o non è piuttosto l'immagine, voi sapete che nel diritto romano, in cruce, ci potevano andare soltanto la feccia peggiore, ieri, proprio ieri mi sembra, è stata la festa delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo, e spiegavo durante l'Omeria, che Pietro e Paolo sono stati martirizzati insieme allo stesso giorno, solo che Paolo, se Pietro è stato un po' crociviso, al contrario, sul collo di Vaticano, San Paolo non ce l'hanno potuto mettere in cruce, se no ce l'avrebbero messo, lo sapete perché? Perché era cittadino romano, quindi i cittadini romani erano esentati da un eproglio di quel genere, cioè da un'altra tortura di quel genere, che era rallata a un'umiliazione immensa. Allora, noi oggi festeggiamo la festa di Cristo e dell'universo, e il Vangelo si mette davanti a Cristo un procipisso, con tutti che lo prendono in giro, tra l'altro, non so se vedeva altro caso del Vangelo, ma c'è un'anemia, un urlo costante, tre volte, e salva te stesso, e salva te stesso, salva te stesso, ma quale re? Non sei manco buono, ha scappato alla morte tu, stai morendo come un malfattore, che te rete? Questo è il primo problema. E poi c'è un altro problema. Se noi ci guardiamo un po' in giro, lasciamo perdere la galassia e l'universo, sul pianeta Terra. Secondo voi, comanda Gesù Cristo? Gli uomini ubbidiscono tutti a Gesù Cristo? Sono tutti buoni come Gesù vuole? Sì o no? A me non sembra. E allora, come la mettiamo? Regna o non regna? È un re o non è un re? Non sembra, non sembra re. Purtroppo, qui sul pianeta Terra, sono ben altri, quelli che comandano, che non il nostro Signore Gesù Cristo. È chiaro che, dobbiamo approfondire, in qualche minuto, e poi mettiamo, un punto a quest'omelia. Allora, la legalità universale di Cristo, è una legalità del tutto particolare. Lui ci ha dato delle indicazioni nel Vangelo. Quando una volta gli apostoli stavano si sono messi a mitigare, lo fanno gli uomini, i piccoli uomini, voi sapete che sono messi a mitigare chi era tra i dodici più grande. Voi sapete che tra i dodici c'erano un pochettino di frizioni, perché c'era San Pietro, che Gesù gli aveva detto tu sei il capo, giusto? Non ricordate, no? Eh, però voi sapete chi era il discevolo per il letto di Gesù? Era San Giovanni, evangelista, ce lo dice lui nel Vangelo. Poi però quasi nessuno sa che tra gli apostoli, due apostoli, erano i cugini carnali di Gesù. Erano i figli del fratello di San Giuseppe. Erano Giuda d'Alfeo, detto anche Giuda d'Alfeo, e Giacomo d'Alfeo, detto anche Giacomo minore. Eh, capito? I suoi cugini di Gesù. Allora, se si mettevano a litigare agli apostoli, San Pietro diceva, poi, io sono il capo perché me l'ha detto Gesù? E San Giovanni diceva, eh sì, io però sono prediletto, tutti quanti i segreti che sono li confida a me. E San Giacomo e San Giovanni dicevano, eh sì, io però ci giocavo insieme quando eravamo piccoli, e c'era la Madonna che ci faceva da maestri a me e a Gesù, voi non stavate. A Oglia li diciamo, che cosa dice Gesù? Per fermare, dice, che sta da fare? Avete capito niente di quello che io sono? Gli spiega proprio cosa vuol dire essere re secondo la sua mente. E gli dice, guardate, amici miei, nel mondo i capi e i re cosa fanno? Sono grandi, esercitano il potere, e si fanno chiamare signore e gongolano nel prevaricare, nel far sentire il peso del potere. Hai visto quando qualcuno diventa Presidente della Repubblica? Oh, capo del governo, adesso io sono il capo, mo ti faccio vedere io, comando io. Giuseppe, tra noi però non è così. Perché chi vuole essere il primo, disse Gesù, deve essere l'ultimo di tutti. Chi vuole essere grande deve fare il servo di tutti, e chi vuole essere il più grande, state attenti, usa proprio questo termine, deve fare lo schiavo di tutti. Oh, lo schiavo. Anche qui potremmo dire, voi sapete come campavano gli schiavi ai tempi dei romani? Terrificante. Gli schiavi non avevano, praticamente erano degli uomini che non vivivano ad essere umani, erano bestie da sola, lavoravano dalla mattina alla sera, non c'avevano soldi, non c'avevano libertà, non c'avevano stipendio, se facevano qualcosa malavamente prendevano un sacco di mazzate, un sacco di botte, se voleva il padrone poteva anche prendere un coltello, piantarlo nel cuore e non sarebbe neanche andato in galera, perché gli schiavi nel diritto romano erano considerati non persone, erano considerate come cose, come gli animali. Quindi se tu ammazzi il cattivo, non è che nessuno ti porta in galera, oggi chiamano le leghe degli animalisti, però non c'erano. E la stessa cosa se pensavi uno schiavo non c'era nessun problema, scavano a punta, lo metti su terra, non succede niente. Quindi capite cosa dice Gesù? Secondo me, secondo la mia dottrina, è completamente capovolta. Cioè, i gradi della terra scavano e vanno in alto, io e voi saremo re quando saremo andati più in basso di tutti e avremo dato la vita per tutti. Ecco perché ci viene posto dinanzi alla croce. Chi ci andava in croce? gli schiavi e gli ultimi della società. Cosa sta facendo Gesù in croce? Gesù in croce sta pagando i peccati di tutti noi. Quindi gli dicono salva te stesso, ma in croce Gesù cosa sta a fare? Sta facendo esattamente il contrario, non sta salvando se stesso in croce, sta salvando noi. e perché questo è essere re? Non è tanto difficile, no? Facciamo un esempio comprensibile. Nella vostra esperienza, nella mia esperienza, che cosa è più difficile? D'accordo? Volete bene una persona che è cattiva oppure volete male? Vendicarsi quando hanno fatto un'offesa oppure perdonare. Fare del bene a una persona che è cattiva oppure come si dice me la leggo al dito e la devi vagare. Cosa è più difficile? Siamo tutti domande retoriche. È più difficile perdonare? È più difficile volere bene a chi è cattivo? È più difficile non osservare l'alcone? Sono tutte quante cose per farle ci vuole un grandissimo dominio di noi stessi. Quando qualcuno ci fa del male voi sapete tu sai saltare tante volte si trova figlio mio figlia mia tu questo lo devi perdonare eh ma padre che ti devo perdonare tu non ti rendi mica conto che significa quando un fratello quando una sorella quando un amico quando un collega quando mi hanno fatto un soccuso di questo genere come faccio a perdonare? È umanamente comprensibile. Ecco perché essere rei velo significa questo perché ci vuole una grandissima forza per essere capaci a fare questo. a spaccare la faccia perdonatevi il termine uno che è cattivo non ci vuole un granchetto viene spontaneo perché ti vuole talmente tanto arrabbiare che lo vengono sbattere pure e dicono il rumore e a non fare questo che ci vuole una grande forza una grande capacità di controllo un grande dominio di sé e una grande carità. Allora noi oggi in questa festa capite Gesù in questo modo è diventato re dell'universo è solo perché ha fatto questo scrive poi San Paolo nelle sue lettere è solo perché è stato capace di fare questo di dare la sua vita per tutti che è stato innalzato e il padre scrive nelle lettere filippesi gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome e nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà in cielo in terra e sotto terra quindi abbiamo risolto il primo problema come mai la festa di Cristo Re vediamo Cristo il Procifisso ma adesso risolviamo in due minuti il secondo e come mai se lui e il Re qui nel mondo sembra che non comanda niente perché tutti fanno il contrario di quello che vuole il nostro Signore ecco perché a differenza dei Re umani sapete che se tu stai un re no? d'accordo? non è che tu puoi dire al Re non mi va e quindi io non ti obbedisco perché se non gli obbedisci al Re il Re te prende e te mette in galera non c'è la possibilità di non obbedire alle leggi di un Re siamo d'accordo no? ecco ma Gesù non vuole regnare in questo modo Gesù vuole che tu e io se lo riconosciamo come Re liberamente e volontariamente riapriamo il cuore ci prendiamo a conoscere il Vangelo lo mettiamo in pratica perché questo è il nostro desiderio libero capite? io appena arrivato qui ho già parlato con molti di voi sto visitando le famiglie eccetera eccetera o l'ho già detto in un'altra homilia qualcuno mi dice madre guarda che io non ci vengo tanto in chiesa e magari si aspetta che io me lo mangio me arrabbio dico guarda avete visto i dieci comandamenti esistono i dieci comandamenti ma se uno trasgredisce un comandamento cioè se uno per esempio non va messo alla domenica che è un comandamento grave cioè il terzo comandamento cosa fa nostro signore te riempie le mazzate subito subito avete mai visto che fa così? no non fa così certo che quella è una cosa grave certo che quando poi saremo morti dovremmo renderne conto a Dio perché abbiamo trasgredito a una sua legge importante però quella legge importante lo devi capire tu che è importante devi interiorizzarla e quindi per te è una messa alla domenica se hai capito bene cosa vuol dire essere servo di Gesù non deve essere un obbligo deve essere una gioia perché tu sei ben contento e felice di fare quello che Gesù vuole perché così vuole essere servito Gesù Gesù non vuole schiavi forzati dal suo servizio vuole persone libere che lo riconoscono come il più grande di tutti per quello che è e per quello che ha fatto per noi e quindi veramente lo riconoscono come proprio Dio e Re e spendono la vita totalmente per noi e io dico signore basta che dici una parola ancora prima che parli io lo faccio d'accordo ma perché ti voglio bene e perché sono grato per tutto quello che hai fatto per me se una persona liberamente in questo mondo sceglie di fare il contrario di quello che Gesù vuole lui lo rispetta soffre di questa cosa perché se noi facciamo quello che Gesù non vuole facciamo del male a noi stessi e torno a noi stessi però rispetta la libertà alla fine della storia però quando ci sarà la fine del mondo allora adesso lo vediamo a crucifisso ma dopo tornerà nella gloria e dopo se vuoi o se non vuoi se sei d'accordo o se non sei d'accordo se ti piace o non ti piace in paradiso oppure all'inferno perché pure i demoni si trovano a mettere in ginocchio davanti a Gesù Cristo anche se lo odiano tutti dovranno riconoscerlo come re per quello che è quindi questa vita terrena abbiamo l'occasione e la possibilità di fare quello che Dio vuole cioè conoscere sempre meglio Gesù riconoscerlo liberamente come nostro re e fare tutto per lui per ricambiare un minimo del tutto che lui ha fatto per lui chiediamo Maria Santissima la perfetta serva che lei si divina la schiava del Signore schiava d'amore però schiava volontaria che ci aiuti a conoscere e riconoscere sempre meglio Gesù come nostro Signore e a servirlo con gioia in santità e giustizia per tutti i giorni della nostra vita per poter regnare fin da ora con lui e poi perfettamente quando saremo da lui chiamati sempre con lui in cielo siamo donati Gesù e Maria sempre siamo donati grazie a tutti